Bentornati su Nomamammazzo e bentornati nella rubrica Dilan Dog, in cui parliamo dei vecchi numeri di Dilan Dog. Retro Dilan, chiamata così. Approfitto per farvi gli auguri di buona Pasqua e per dirvi che no, non mi sono dimenticato di fare il retro Dilan del mese di marzo, non l'ho saltato, l'ho semplicemente posticipato a oggi, giorno di Pasqua, perché voglio parlare di un numero, non dico pasquale, ma che contiene un coniglietto. I conigli rosa uccidono. Dilan Dog, numero 24, uscito il primo settembre 1988. La storia è di Luigi Mignacco e i disegni sono di Luigi Piccatto e di Cesare Valeri. A soli due anni di pubblicazione, dato che stiamo parlando del numero 24 di un mensile, una storia fuori dall'ordinario sclaviano e lo si nota molto perché è concreta, non è una classica storia sclaviana molto onirica o, se vogliamo toccare il Sacro Maestro, lo si capisce perché una volta tanto è una storia che ha un capo e una coda. Ha un buon inizio, molto splatter, un corposo sviluppo centrale dove i protagonisti non vanno a caso, non seguono il quinto senso e mezzo, ma seguono una pista. C'è un bel lavoro di indagine con tanto di interrogatorio ai personaggi secondari che sono caratterizzati benissimo. Una storia con un Dilan molto cinico, molto sicuro di sé, che non si innamora della donzella di turno, ma non è esente dal volerci provare. Non si sbilancia solo perché la donzella di turno è una vedova e per rispetto non fa delle avance. E di conseguenza in questo numero va in bianco. È il 1988 e il fumetto è ancora diviso in capitoli e il lettore medio non se lo legge tutto da un fiato, ma se lo gusta piano pianino come se fosse un libro in attesa della prossima uscita mensile. Anni diversi in cui i lettori non sono nerd, ma gente semplice che si imbarazza a comprare il topolino in edicola e quindi punta sul sicuro in un fumetto che è palesemente adulto, così esplicitamente horror e soft erotico. Questo albo ha anche l'onere di sperimentare l'unione di due generi apparentemente inconciliabili, come appunto il fumetto horror e il fumetto cartonistico, il cartone animato. Il classico cartone in stile Looney Tunes o Anne Barbera. E questo vale sia per la storia, ma anche per i disegni, dove appunto i disegnatori cercano di conciliare lo stile verosimile tipico dei fumetti bonegliani allo stile cartonistico tipico di questi cartoni americani. Il risultato è un cult che echeggia ancora oggi tra i numeri più significativi dell'indagatore dell'incubo e precede per molti versi quei film che hanno unito animazione e live action come Chi è incastrato Roger Rabbit o Space Jam. Precede anche le morti iperviolente che abbiamo visto nella saga di Final Destination e soprattutto come i migliori tra i numeri di Dilan Dog ha una risoluzione del caso che è sia terrena e sia soprannaturale. Che dire, i conigli rosa uccidono è un must have per un fan che si approccia a Dilan Dog o che conosce Dilan Dog da un po' e vuole rispolverare un grande classico. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi auguro ancora una buona Pasqua, vi ricordo che vi aspetto sempre alla fine del mese per l'uscita regolare di Dilan Dog. Parliamo anche del Color Fest quando esce, dell'Old Boy e magari potremmo iniziare anche a fare qualche live a fine mese in cui facciamo un sunto di tutte le varie testate dilaniate. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.